Fiducia a uno spartito testato per un mese, passando per sei amichevoli e l'esordio in Coppa Italia, consapevolezza dei mezzi tecnici e atletici a disposizione delle lacune che i prossimi 13 giorni di calciomercato dovranno colmare. Bagaglio che accompagna il Bari all'esordio nella Serie B 2024-25, questa sera alle 20.30 i bianco-rossi ospiteranno nel primo turno di campionato inaugurato dalla vittoria per 1-0 del Brescia sul Palermo al San Nicola alla Juve Stabia, avversario fresco di promozione in Serie B e accompagnato all'arrivo nella categoria dall'entusiasmo tipico di chi ha vissuto un'annata in ascesa. Al contrario il Bari è chiamato a cancellare con un colpo di spugna la scorsa stagione, chiusa con la salvezza ottenuta ai play-out grazie al 3-0 griffato di Cesare e compagni nella notte di Terni. Da quel 23 maggio tanto è cambiato nel mondo bianco-rosso. Di Cesare affianca il neodiesse Giuseppe Magalini nell'area tecnica, in panchina c'è Moreno Longo e la squadra è all'inizio di quello che lo stesso allenatore ha definito un percorso che dovrà passare per tante difficoltà. Quello del San Nicola sarà allora già un test utile per comprendere le ambizioni del Bari in questo campionato a fronte di un obiettivo fissato dalla proprietà, il raggiungimento dei play-off e di una rosa che dovrà essere completata con almeno tre arrivi di valore, uno per reparto, numero destinato a crescere in caso di partenze di qui al 30 agosto, deadline del calcio mercato. Per affrontare i campani di Guido Pagliuca intanto Longo si affiderà alle certezze accatastate in questo mese di lavoro. Si parte dal 3-4-2-1, modulo testato sin dalla prima uscita nel ritiro di Roccaraso. Tra i pali ci sarà Radunovic davanti a lui, Puccino, Vicari e uno tra Mantovani e Obaretin con l'ex difensore dell'Ascoli in lieve vantaggio. Pochissimi dubbi a centrocampo, recuperato Dorval, a sinistra ci sarà l'ex audace Cerignola e Fasano con Favasuli sulla corsia opposta. Regia affidata a Maiello e Benali, due palleggiatori che Longo sta preferendo in questo scorcio iniziale di stagione all'Ulic e Maita in attesa di un innesto a centrocampo. In attacco, chiavi nelle mani di Kevin Lasagna, supportato da Sibilli e uno tra Sgarbi e Manzari, con il primo favorito nonostante la rete dell'1-1 segnata dal 24enne barese nel pomeriggio di Coppa Cremona. Sugli spalti previsti circa 18.000 spettatori con oltre 6.800 abbonamenti venduti alla vigilia della partita, arbitra collu della sezione di Cagliari.